E' un'Italia che va in fiamme, il sud del bel paese, Puglia, Sicilia, Campania e Lazio in testa inginocchiato dall'emergenza roghi che sembra non trovare soluzione, complice alla forte ondata di gran caldo associata alle barbari, umana, responsabile della quasi totalità degli inneschi, la situazione rischia di sfuggire di mano. Una giornata quella di ieri da Bolino Nero che ha mandato in tilte la macchina della protezione civile impegnata su più fronti cominciando dal vasto rogo che ha interessato lo stabilimento della Fiat di Termoli. I primi focolai avvistati alle 14 ma era già tardi, in poco tempo si sono allargati, hanno investito il polo a Valle Biferno dove si trova anche lo stabilimento della Fiat. Le fiamme hanno raggiunto le recinzioni investendo due tensostrutture in plastica. I vigili del fuoco hanno evacuato per agli impiegati, mentre altre squadre hanno lavorato a terra con l'ausilio di un canadere e di due elicotteri. Un'emergenza che ha comportato disagi e volontari chiamati anche sulla sponda garganica di Puglia, dove lingue di fuoco di mani proporzioni hanno distrutto ettari di verde in località Citrigni e Coppa Lamacchia in agro di Peschici. Sembrava essere tornati indietro ad esattamente dieci anni fa, quando un altro vasto incendio distrusse centinaia di ettari di bosco, provocando tre morti e decine di feriti nella baia di Manacore. Ed anche in questa occasione i vigili del fuoco sono stati costretti a fare evacuare alcune case lambite dalle fiamme e a bloccare un tratto della statale 98 per timore che le fiamme potessero mettere in pericolo gli automobilisti in transito. Chiuso sulla strada statale 89 Garganica anche il tratto in località Mandrione e il traffico deviato su strade secondarie. Dopo una prima fase in cui le fiamme sembravano sotto controllo, l'incendio a causa del forte vento di altri nuovi focolai ha ripreso vigore, proseguendo in direzione di Vieste, dove era giunto nelle prime ore di ieri sera località Resega. Sul posto anche il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, per coordinare le operazioni di spegnimento. L'incendio ha continuato la sua opera di distruzione per tutta la notte, bruciando ettari di bosco e macchia mediterranea. Il forte vento caldo ha infatti complicato le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco e di due canadeir per effettuare i lanci di acqua e liquido ritardante.